Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi è la festa francescana di San Lorenzo da Brindisi. San Lorenzo da Brindisi nacque il 22 di luglio del 1559. Rimasto orfano in giovane età, si trasferì a Venezia presso uno zio e poi entrò nell'ordine dei frati Cappuccini del Veneto. Compì i suoi studi nel convento di Verona, dove si distinse per pietà e scienza. In breve tempo riuscì ad apprendere la lingua greca, ebraica, francese, spagnola e tedesca, così bene da saper predicare in tutte queste lingue. Sebbene godesse dell'universale stima, il nostro Santo praticò sempre l'umiltà, aiutato in ciò dalle frequenti mortificazioni. Digiunava molto spesso, camminava a piedi nudi e a capo scoperto, meditava continuamente, pregava e predicava ai poveri la buona novella, e fondò diversi conventi. Vide in spirito che la città di Vienna era assediata dai nemici della fede, per la cui difesa osservò il digiuno di un giorno e celebrò la Santa Messa. Dopo, montato a cavallo e tenendo il crucifisso in mano, levò alto il grido, «Avanti, Dio lo vuole, Dio è con noi!» e la vittoria fu dei cristiani. Nel convento francescano della città di Innsbruck si conserva ancora oggi il crucifisso che ostentava San Lorenzo. Da questo episodio impariamo che le sorti del mondo sono nelle mani di Dio e che con la preghiera si ottiene tutto, anche le grazie che, umanamente parlando, parrebbero impossibili. Caratteristiche particolari della sua spiritualità, tipicamente francescana e cristocentrica, furono il culto dell'Eucaristia e la devozione alla Madonna. La Santa Messa, da lui celebrata con fervore incontenibile e ardente invocazioni, si prolungava normalmente per una, due o tre ore e spesso in seguito a un indulto del Papa Paolo V, anche fino a otto, dieci o dodici ore. Alla Vergine Maria egli attribuiva ogni dono e ogni grazia e nulla risparmiava per diffonderne la devozione. Nonostante la sua aspirazione alla vita ritirata, fu costretto spesso a interromperla su ordine del Papa per missioni diplomatiche finalizzate alla pace e alla concordia. Tuttavia, San Lorenzo da Brindisi ebbe modo di scrivere numerosi scritti. Tra questi vogliamo ricordare le sue opere di predicazione e le opere di carattere esegetico, ovvero di spiegazione della Sacra Scrittura. Le opere finalizzate alla predicazione, per la maggioranza, comprendono i Quaresimali, il Santorale, con una nutrita serie di discorsi per le feste dei Santi, il Mariale, vero trattato di Mariologia, con la presentazione di tutte le prerogative della Vergine Maria e del suo ruolo nella storia della salvezza e una ricca serie di esposizioni sulla Salve Regina, sul Magnificat e sull'Ave Maria. Poi vi sono le opere apologetiche, ovvero in difesa della dottrina cattolica. In queste opere confuta magistralmente le resie luterane che si stavano diffondendo in Europa. Da San Lorenzo impariamo inoltre l'amore alla Sacra Scrittura. La conosceva molto bene e la predicava con ardore in quasi tutte le lingue europee che lui ben conosceva. Addirittura predicava sull'Antico Testamento agli ebrei di Roma e veniva da questi apprezzato. Esemplare in tutto, fu eletto Ministro Generale. Oltre alla buona riputazione che godeva presso i re, godeva pure il favore e la fiducia del Papa che lo volle inviare quale legato in Spagna presso il re Filippo III. Ma appena giunto, San Lorenzo fu colto da una grave malattia, probabilmente fu avvelenato, per cui morì nel Signore il 22 di luglio del 1619. Il brano del Vangelo di questa festa riporta l'incarico che Gesù diede ai Suoi Apostoli di predicare, di annunziare il Regno di Dio. Il testo dice che essi partirono e giravano di villaggio in villaggio, annunziando dovunque la buona novella. San Lorenzo da Brindisi ha messo in pratica questa pagina evangelica, predicando in diverse parti d'Europa e risvegliando la fede che in molti si era subita. Egli così scriveva, La fede non può svilupparsi senza la predicazione della parola di Dio. La fede dipende dalla predicazione e la predicazione a sua volta si attua per la parola di Cristo. Pertanto, alla predicazione della parola di Dio è necessaria la vita spirituale, come la semina al sostentamento della vita corporale. Perciò Cristo dice, Il seminatore uscì a seminare la sua semente. La parola di Dio è talmente ricca di ogni bene che è come un tesoro di tutti i beni. Da essa sgorgano la fede, la speranza e la carità. La parola del Signore è luce per l'intelletto e fuoco per la volontà, perché l'uomo possa conoscere e amare Dio. Sull'esempio di San Lorenzo da Brindisi, impegniamoci a conoscere di più la parola di Dio, a meditarla e soprattutto a viverla ogni giorno. Vogliamo ora terminare con una preghiera a San Lorenzo. O San Lorenzo da Brindisi, ascolta propizio la nostra preghiera, assisti premuroso il serafico ordine, sia fecondo di figli, la santità aumenti, serva fedelmente Cristo Gesù con le parole e le opere. Sulle orme del Padre Serafico San Francesco, con Te vogliamo percorrere la stretta via del bene e presto giungere alla vetta. Vogliamo meditare la passione di Gesù, celebrare e vivere fedelmente il Divin Sacrificio, amare, celebrare, predicare la Vergine Maria che su di Te profuse i celesti carismi. Fiduciosi nel Tuo patrocinio, attendiamo da Te luce e forza per conoscere la nostra missione e per attuarla. Amen. San Lorenzo prega per noi. Grazie a tutti.